I campionati di calcio sono prossimi alla ripartenza, in particolare la Serie B con il recupero odierno tra Ascoli e Cremonese, poi la 29esima giornata tra venerdì e domenica prossimi, ma il caso di positività al Covid riscontrato nel calciatore del Venezia Felicioli riporta un po' di apprezzione nell'ambiente. La partita di domenica tra Pordenone e Venezia è a rischio. È vero che il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, in considerazione del miglioramento costante della curva dei contagi, ha dato l'ok all'allentamento delle misure del protocollo delle partite, avallando l'ipotesi che, in caso di una positività nel gruppo squadra, il singolo sarebbe finito in isolamento, gli altri, in caso di ulteriori tamponi negativi, avrebbero potuto continuare ad allenarsi e disputare partite. Ma tale allentamento va disposto con un atto normativo che modifichi quanto scritto, e dunque tuttora vigente, nel decreto legge dello scorso 16 maggio e quanto asserito ieri nel corso della trasmissione porta a porta dal ministro dello sport Spadafora. Però bisogna cambiare la norma, quella appunto dei 14 giorni, che è contenuta in un DL, neanche in un decreto del Presidente del Consiglio Missile, ma in un decreto legge. Quindi dovete avere un altro decreto legge prima? O si fa un emendamento, perché il decreto non è stato ancora, diciamo, convertito, un emendamento al DL che adesso è in Parlamento, oppure in un prossimo decreto legge bisogna cambiare. Ovviamente in entrambi i casi non credo che ci siano i tempi per poter essere efficaci, ovviamente dal 20. Cercheremo di fare il prima possibile, io ne parlerò adesso con il Presidente del Consiglio e con il Ministro Speranza, ma sicuramente abbiamo bisogno di un provvedimento, quindi un provvedimento che vada a modificare un decreto. Dunque, finché non ci sarà tale modifica, saranno vigenti quelle disposizioni che prevedono, oltre che l'isolamento del caso, anche la quarantena per 14 giorni per il resto del gruppo con l'impossibilità di disputare partite. La conseguenza è pianificare ulteriori recuperi e dunque una congestione di un calendario già fittissimo di partite per chiudere la stagione senza pieni B o C. Nel frattempo c'è da sperare che non ci siano altri casi di positività, mentre il Presidente Gravina mette pressione al Governo, bisogna fare la modifica. E' chiaro che noi auspichiamo in tempi rapidi che questo possa essere risolto, perché è un problema. Non è sicuramente un problema che blocca in questo momento il nostro campionato, ma è un problema. Il Pescara intanto continua a lavorare per presentarsi al meglio alla gara di sabato, ore 18, allo stadio atletico Cornacchia contro la Juve Stabia. Ha recuperato Palmiero, vittima di una contusione al ginocchio nei giorni scorsi, e la sua presenza non sembra in discussione, così come migliora Scognamiglio dopo un breve periodo di sedute differenziate. Nicolale Grottalia nel frattempo mischia le carte e in allenamento sta provando diverse soluzioni. Quella più probabile è il trio d'attacco con un centroavanti e due trequartisti, Galano e Pucciarelli. Vagliata anche l'ipotesi di Pucciarelli-Falso 9 supportato da Galano, ma difficile si opti per tale assetto. Per il tecnico pugliese dunque è l'ora delle scelte importanti per iniziare un cammino di dieci partite che potrebbe valere. La conferma in rival adriatico per la prossima stagione.